Siamo con Anna Prota, top manager e direttrice della filiale diretta Prestito Sì di Bologna, premiata al primo posto nella categoria Top Performance Quota Rosa. Benvenuta Anna e complimenti, cosa vuol dire per te essere presente oggi qui? Ci racconti un po' la tua storia professionale e soprattutto cosa deve fare un consulente per avere successo? Allora un consulente oggi penso che per avere successo deve essere molto informato, deve sapere ascoltare e deve sapere essere guidato inizialmente perché è importante comunque visto che il nostro settore è in continua evoluzione deve stare a passi con i tempi di oggi purtroppo. È un bel premio quello nella categoria Quota Rosa, quanto spazio si stanno facendo le donne in questo settore? Infatti, infatti è una cosa molto bella che la Prestito Sì comunque ci dà comunque la possibilità a noi donne di crescere anche oltre al settore finanziario, appunto seguire delle filiali dirette e essere comunque a capo di situazioni di ragazzi che devono comunque inserirsi nel settore lavorativo ed essere anche noi donne capo oggi finalmente. Perché hai scelto Prestito Sì? Perché Prestito Sì quando l'ho conosciuto ecco un anno e mezzo ma quasi non la conoscevo, però devo dire una cosa molto bella di loro che a prescindere da come sono preparati e dalle cose che fanno per i giovani, per noi, c'è una vera famiglia, veramente c'è una vera famiglia in loro. Grazie. Béat